Ciao amici, benvenuti nel mio canale, come state? Oggi, in questo video parliamo della tecnologia moderna, che come possiamo convertire, le finestre in un balcone. Sono idee così interessanti, e, uniche che condivido con te, spero che ti piaccia. Ora diamo un'occhiata. Qui, ho condiviso alcune idee, che sembrano fantastiche e belle. Se ti piacciono queste idee, iscriviti al mio canale. Quindi ora iniziamo il nostro video. Quelle immagini sembrano attraenti e spettacolari. Quando sono stanco, mi siedo qui, e mi godo il panorama. Inoltre possiamo decorarlo, con fiori e un tavolino da caffè. È il posto perfetto dove ci sediamo, e, pensiamo ai nostri problemi, e, ci sentiamo rilassati. Ti piaceranno molto questi disegni? Quindi guarda il video fino alla fine. Quindi qui puoi vedere come possiamo decorare, questo balcone con fiori e tavolo e stare qui. Le case non vengono costruite tutti i giorni, quindi ogni volta che pensi a un casa, tieni tutto a mente. Sul mio canale troverai molti video, che ti aiuteranno molto, ci saranno molte idee. Quelli, di voi che amano, i fiori, adoreranno questa idea. Spero, che ti piaccia il nuovo stile di balcone. Se ti piace il mio video, iscriviti al mio canale, grazie.